Tante cose che sono andate bene, se dovessi scegliere qualcosa che invece è ancora da migliorare in questa partita? Diciamo che alcune non sono grandi cose, sono dei dettagli che però diventeranno sempre più importanti. Credo che abbiamo fatto dei passi in avanti anche rispetto alla prima partita, perché volevamo mantenere un livello abbastanza costante sia sulla fase di recessione d'attacco e di break, perché il terzo set della prima partita avevamo un pochino mollato questa situazione. Oggi l'abbiamo fatta sicuramente meglio, l'atteggiamento è sempre stato abbastanza positivo, rivolto sempre a cercare di migliorare delle situazioni, quindi sono dettagli veramente di alcune posizioni di muro, insomma che andiamo a guardare con degli attaccanti, potevamo fare meglio qualche palla che si poteva difendere, però sono anche partite nelle quali incontri avversari come la Turchia, che forse non sono dei ranking alto, ma appena molli, sono squadre che lottano, che giocano, hanno un loro gioco, quindi siamo stati bravi diciamo sempre a tenerli con una certa distanza e poter giocare, non tranquilli, ma giocare la nostra pallavolta. Ottavi già in cassaforte, primo posto abbastanza vicino, soprattutto l'Italia al momento è fra le migliori, uno o due migliori del tutto secondo previsione, non era scontato? No, non era scontato perché queste due squadre, adesso un po' di sorpresa è stata vedere la scena, perché l'abbiamo visto in WNL che per carità aveva fatto anche delle partite buone, queste prime due partite è stato, però noi dobbiamo veramente stare focalizzati su quello che dobbiamo raggiungere, vedere di tirare il massimo da queste tre partite e il massimo significa anche sfruttare ogni partita per migliorare quei dettagli che poi dopo dagli ottavi, insomma, gli ottavi si gioca a prendere diciamo, non è che stai lì a... Secondo te queste partite sono abbastanza allenanti già in chiave ottavi? Sì, sì, abbiamo fatto quel terzo setto, è stato in fase di ricezione attacco, molto allenato, siamo allenati moltissimo e oggi siamo dovuti stare sempre sul pezzo perché questa è una squadra che appunto appena un po' si mollava qualcosa stava lì, quindi no, va bene.